buon poveriggio e buon pranzo cari amici fan dal vostro nicola de luce bene è da pochissimo finita pesaro brindisi di serie a di basket maschile 2020 giornata numero 22 i nostri cari giocatori brindisi si sono imposti per 103 a 77 quindi anche a loro può andare il reddito di cittadinanza vabbè scherzo scherzo comunque la vittoria di brindisi era quotata 1 e 30 1 e 32 1 e 28 per quanto riguarda la cronologia dell'incontro gara che all'inizio ha visto un leggero vantaggio di peso il 18 a 16 nel primo periodo nel secondo 35 45 in favore di brindisi nel terzo 63 78 e poi il largo nell'ultimo periodo in virtù di questa vittoria brindisi in attesa della partita di milano sempre quinto posto con 13 vittorie 8 sconfitte pesaro ultima una vittoria e 19 sconfitte in 17 posizione zona e retrocessione brindisi che sarà impegnata il primo marzo del campionato si prenderà un po' di pausa al palapendassulla contro varese che undicesima 9 vinte 10 perse mentre pesaro giocherà il 29 febbraio a reggio emilia contro la reggiana che è il dodicesimo con 9 vinte 11 perse bene concludo facciamo un riassunto il new basket brindisi vince a pesaro 103 a 77 ciao 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 ciao